L'arbitro non è stata proposta a questa inquadratura, ma poi che ridevanza ha avuto quel tocco sul gol che ha fatto poi? Ma è assurdo! Sul gol straordinario che ha fatto, è una roba che non c'era niente. Guarda la maglia, guarda la maglia, guarda la maglia, guarda la maglia, guarda come si vede che il pallone gli ha lasciato la traccia. Ma perché non l'ha vista? A parte che nessuna televisione l'ha fatta vedere, complimenti a sempre, nessuna televisione ha fatto vedere questa immagine. Stiamo su questo contributo, ha visto un'immagine che poteva trarti l'inganno, ma questo contributo è clamoroso. Ci seguono anche i colleghi di Mila News che guardino, grazie colleghi, mi posso permettere per l'affetto e l'amicizia di dire così? È assolutamente clamoroso questo.